La storia dei vocabolari italiani è da sempre legata doppio filo alla riflessione sulla lingua e, più in generale, alle vicende della cultura e della società del nostro paese. L'Ottocento, in questo senso, è considerato il secolo d'oro dei vocabolari. Bisognava infatti unificare l'Italia, anche attraverso la lingua, una lingua comune. Negli ultimi vent'anni, gli studi sulla lessicografia italiana dell'Ottocento hanno mostrato notevole vivacità. A questo proposito è tuttora animato il dibattito relativo alla stesura della quinta edizione della Vocabolario degli Accademici della Crusca. Il tema è stato affrontato oggi in un convegno promosso dall'Università d'Annunzio Chieti-Pescara. Ludwig Wittgenstein diceva che i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo. In effetti noi arriviamo dove arrivano le nostre parole, quindi un dizionario è un universo. Le parole non servono solo a descrivere, a rappresentare il mondo, ma servono anche a costruirlo. È la storia delle parole. È atteltanto affascinante e bella quanto la storia delle persone, degli uomini che a quelle parole affinano i loro sentimenti, le loro esperienze, le emozioni, i progetti. Secondo lei perché la lingua universale, si parlava di Esperanto qualche anno fa, non ha preso piede abbastanza? È diventato l'inglese la lingua universale, ma non lo è? Perché la lingua, diversamente da quello che pensiamo un po' tutti, a volte anche gli studiosi, non nasce dalle aule, non nasce dai libri. La lingua nasce dalla vita, nasce dai rapporti fra le persone, dai porti, dai campi, dai luoghi di culto e quindi non si può, come dire, inquadrare, imporre una lingua. La lingua è viva e qualunque maniera, qualunque tentativo di inquadrarla, congelarla, è inevitabilmente destinata a fallire. Prima l'italiano era la lingua di un popolo di letterati e con l'unità d'Italia diventa il popolo di una nazione con tutti i problemi connessi, quindi la necessità di allargare il pubblico, di fare parlare in italiano tutti quegli italiani che parlano sempre dialetto nell'Ottocento, una produzione di vocabolari che ha dell'incredibile, cioè si stenta a credere che potessero essere assorbiti dal mercato, invece erano di sicuro venduti, come appunto il tramater napoletano dal 1829, napoletano abruzzese abbiamo visto perché c'è una forte presenza di intellettuali abruzzesi a cominciare dal liberatore che è il grande ideatore di questa impresa lessicografica. Il dizionario è in regresso, ahimè, perché non c'è più l'uso di portarselo da casa quando c'è il compito in classe e tante volte non c'è nemmeno l'uso dell'insegnante di metterlo a disposizione in cattedra. La rete è un luogo in cui si utilizza una lingua particolare, caratterizzata da velocità, immediatezza, a volte anche minore attenzione, quindi più scorretta. Certo che se si dimenticano le altre forme più raffinate e più prestigiose, si creano degli incidenti.